Sono Sandro Salvi, sindaco di Guardia Grena. Sono in questa manifestazione perché ritengo che l'ospedale di Ortona non meriti di essere così penalizzato con la chiusura del punto nasce. Anche le ultime dichiarazioni della Lorenzina stanno a favore dell'ospedale di Guardia Grena. Era doveroso per noi essere qui, oltre che come medico che lavora all'ospedale di Ortona, anche come sindaco di Guardia Grena è di un paese per il quale ci stiamo battendo contro la chiusura dell'ospedale. Per cui è stato, secondo me, doveroso la mia presenza qui. Avrei preferito che anche le amministrazioni e altre amministrazioni fossero presenti qui, ma va bene così. Vedo che la gente c'è, vedo che c'è una buona risposta. Speriamo che il Governo regionale ne tenga conto.